Un giorno Arturo, quello che mi considerava, mi diceva di essere amico al termine dei lavori, avendole combinata una più grossa di tutte le altre, mi disse, ma io sono fatto così il mio carattere, io le risposi, ma non è una giustificazione, perché se uno è intelligente quando capisce di sbagliare, deve rimediare i suoi sbagli, non può continuamente chiedere perdono e rimanere sempre nello sbaglio, come è fatto anche questa volta, è un po' come il bambino che non sa niente, inizia ad andare alle scuole elementari, poi va alle medie, poi va alle superiori, poi all'università, bisogna volerle imparare, lo stesso riguarda il carattere, l'essere interiore, se uno vuole può diventare un sole e brillare per sempre.